Allora, ti spiego Daniel e mi ripeti Luca. Allora, ti spiego Daniel. 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 Ti spiego Daniel. Allora, ti spiego Daniel. Daniel, raccontami tutto. No, è stato divertente. Adesso è stato divertente. Sicuramente. Ovviamente tranquillo e... Bello, vi parevi visto il decollo che è... Sì, sì. Bello, veramente bello. Il paesaggio, puoi stare in aria sospeso, bellissimo. Freddo? No, è stato divertente. No, no, non è stato...